Per un turismo più accessibile e senza barriere parte da Napoli il progetto Cosi4You, iniziativa dell'associazione di volontariato PEPUL dalla parte dei disabili, che vuole garantire il diritto al turismo facile e comodo per tutti. L'obiettivo è rendere la campagna una meta turistica pronta ad accogliere anche le persone con bisogni speciali e per realizzarlo sono previste una serie di attività, itinerari dedicati, servizi di supporto specialistico per il trasporto e l'ospitalità, accompagnatori adeguatamente formati e la diffusione di informazioni sull'offerta turistica accessibile. E' un turismo che non deve essere soltanto un turismo accessibile ai disabili in senso stretto ma a tutte le persone che hanno dei bisogni speciali come anziani, come obesi, come persone che hanno delle disabilità alimentari. Vorremmo normalizzare, vorremmo che il turismo fosse solo più attento e preparato, quindi questo progetto mira proprio a questo, a preparare le imprese, da una parte facendosi aiutare dalle istituzioni dall'altra, a comprendere meglio quali sono questi bisogni speciali. Una volta che si sono conosciuti e che si è sensibilizzati alla problematica diventa un atteggiamento molto semplice. Realizzato in collaborazione con il Comune e finanziato dalla Commissione Europea, il progetto è stato condiviso da alcuni tour operators e vuole coinvolgere un numero sempre più ampio di aziende e operatori del settore per garantire a chiunque un'accoglienza di qualità. Tanti operatori turistici della nostra città stanno comprendendo il valore di questo lavoro e quindi si stanno impegnando per migliorare la qualità dei loro servizi, l'accessibilità delle strutture e quindi in qualche modo questo accentua anche le nostre responsabilità, quindi anche noi dobbiamo investire di più e meglio per quanto riguarda le nostre responsabilità e i nostri servizi in questa direzione. Gli esperti di Cosi4You monitorano costantemente le strutture turistiche accessibili con una mappatura continua al fine di creare nuovi itinerari e attraverso un sito web e una app è possibile scegliere il proprio viaggio senza alcuna difficoltà. L'obiettivo che noi abbiamo proposto all'Europa e che è stato ben accetto è quello di rendere questa regione e soprattutto questa città un esempio.